Ok, allora riagganciandoci a quanto abbiamo fatto nell'ora precedente, proviamo a completare almeno questo primo metodo e poi andiamo avanti con le varie funzionalità del libretto voti. Allora per completare la cosa ci ricordiamo che alla fine dopo aver impostato il setup di prima, quindi questa famosa figura che corrisponde come dicevamo a quelle quattro righe modificate nell'entry point e quelle due righe modificate nel model, che è nulla di più, una volta che abbiamo impostato questo e purtroppo dobbiamo rifarlo tutte le volte che abbiamo un progetto nuovo da aprire, ma da un certo punto in avanti anche nei laboratori vi daremo già il progetto base modificato così, ora partiamo da progetti vuoti, ma poi man mano vi daremo già dei progetti con un po' di scheletro che avranno già queste parti, ma come abbiamo visto una volta capite sono tre istruzioni. A questo punto ogni metodo del controller alla fine avrà quasi sempre la stessa struttura. Ogni metodo gestore di eventi all'interno del controller alla fine dovrà fare tre cose. Capire cosa è successo, quindi se l'utente ha richiesto un'azione andiamo a vedere quali sono i dati, ci sono, non ci sono, sono validi, devo fare l'operazione oppure no. Poi faccio l'operazione e vuol dire chiedo al model di fare l'operazione e poi, terza fase, aggiorno l'interfaccia. Aggiorno l'interfaccia significa tipicamente chiedo al model i risultati di ciò che ho appena fatto e vado a impostare qualche proprietà nei nodi opportuni che devono mostrare il risultato. Normalmente la parte più importante dal punto di vista della logica è la più breve all'interno del controller. Il controller a un certo punto chiama un metodo del model dicendo fai tu. Il controller invece si occupa di tutto ciò che ci sta al contorno, anche per questo che ci conviene tenere ben separate le cose. E per quanto possibile il controller e il modello dovrebbero parlarsi tra di loro usando oggetti. Infatti una cosa che vorrei fare è cambiare questa cosa che abbiamo fatto qua sotto e non mi piace. Non mi piace che sia il model a costruire la stringa che il controller dovremmo visualizzare. Ma anche perché noi inizialmente avevamo pensato qua di non mettere un'area di testo, di mettere una tabella. Allora se io ho una stringa, come faccio a prendere questa stringa e convertirla in tabella? Devo diventare pazzo ad andare a estrarre i valori dall'interno della stringa, quando in realtà avevo degli oggetti che mi davano già esattamente gli esami, i loro voti, i loro nomi. Quindi è sempre meglio fare in modo che l'interfaccia del modello sia sempre un'interfaccia a oggetti. Chiaro che un toString ce lo devo mettere, perché se no non riesco neanche a fare debug. Però è ultima razza, cerco sempre di non usarlo. La conversione da oggetti a stringa nella visualizzazione dei dati o da stringa a oggetti nell'input dei dati è il compito del controller. È il controller che decide come visualizzare le cose, perché è lui che ha in mano l'interfaccia, sa quanto spazio c'è nella casellina che deve scrivere e così via. E questo toglie una responsabilità al modello che se ne frega dell'input-output, della formattazione, dell'estetica e rimane tutto giustamente dove deve stare nel controller. Allora, dicevamo, fase 1, che ci sarà sempre. Funciona ancora. Ok. Oggi non devo comprare un microfono nuovo al Politecnico, per fortuna. Dicevo, la fase all'interno del controller. Uno, acquisizione e controllo dati. la seconda cosa che devo fare sarà sempre esecuzione dell'operazione, cioè chiedere al modello e farlo. E tre, visualizzazione barra aggiornamento del risultato. Ok? Allora, l'acquisizione dei dati l'abbiamo fatta qui. Il controllo di validità sarà il fatto che, ad esempio, il nome del corso deve essere stato inserito e il numero di punti, invece, deve essere stato selezionato. Quindi, se per caso, nome fosse una stringa vuota, or punti fosse null, perché sono due cose diverse. Nome è un oggetto di tipo string. Nei campi di testo la proprietà text esiste sempre, è sempre definita. Non può essere mai null. Se l'utente non scrive nulla, lì dentro ci sarà una stringa vuota. Quindi, per controllare se la casella di testo è vuota o non è vuota, vado a confrontare il nome con la stringa vuota, oppure faccio ifLang uguale 0, insomma, la lunghezza della stringa uguale 0. Mentre invece il getValue è un oggetto, quindi essendo un oggetto in generale non posso confrontare con stringa nulla o altro. Se l'utente ha selezionato una voce dall'elenco, allora sarà l'oggetto che rappresenta quella voce lì. Se invece l'utente non ha selezionato nulla, allora il getValue restituirà null. Qui devo fare attenzione, ho fatto un errore perché ho memorizzato questo valore all'interno di una variabile int e nel caso in cui l'utente non avesse selezionato nulla avrei una null pointer exception qui, quando lui cerca di convertire da oggetto int, integer, a valore int. Quindi è bene anche qua tenerlo come oggetto e così essendo un oggetto posso confrontare se è null oppure no, altrimenti come int semplice non esiste il null. Allora se una di queste due cose è successa, allora non va bene, non posso eseguire l'operazione. E cosa faccio? Beh innanzitutto devo dirlo all'utente in qualche modo. Senti, manca un dato. E quindi avrei dovuto prevedere nell'interfaccia utente, nell'fxml un posto dove poter mettere messaggi d'errore. Se noi fossimo su un'applicazione ben fatta, quando prendiamo invio e mancano dei campi avremo un bordino rosso intorno al campo mancante e un messaggio magari a fianco del bottone del tipo campi mancanti. Completa i campi eccetera. Questo lo potremo aggiungere, se vogliamo lo possiamo aggiungere, tutto lavoro di interfaccia. Per ora non ce l'abbiamo, allora il meglio che potremmo fare, il minimo che potremmo fare è scrivere magari l'errore qua dentro, il posto dei voti. È brutto, è bruttissimo. Cominciamo a farlo, poi magari lo rendiamo meglio. Io sono sempre dell'idea che conviene sempre fare un passo per volta. E quindi qua potremmo dire la nostra txt voti, possiamo scrivere errore, occorre inserire nome e voto. Va bene. E poi posso fare un semplice return. Di solito questi controlli di validità io sono tutti dello stesso tipo. Controllo se una condizione è verificata, se non è verificata lo segnalo all'utente, poi basta, interrompolo, non vado avanti. Questo return esce da dove? Dal gestore dell'evento, quindi vuol dire che quel click a questo punto non viene più, viene dimenticato. Dico all'interfaccia grafica, ho fatto ciò che dovevo fare, cioè nulla, cioè stampare il messaggio di errore. Se invece nessun messaggio di errore viene selezionato, cioè nessuna condizione di errore è vera, allora non passo da questo return, vado avanti e finalmente arriverò qua sotto. Se ho superato tutti gli ostacoli dell'errore, finalmente farò l'operazione. In questo caso qui ho messo un messaggio generico, magari l'utente vuole sapere se ha sbagliato il nome e se ha sbagliato il voto. Allora in realtà questa if l'ha spesso in due, controlliamo il nome, se il nome non va bene scriviamo il messaggio, eccetera eccetera. Per fare un controllo dell'errore ben fatto su un form di 3-4 campi è facile che partano fuori una pagina o due di codice, perché ci sono tanti casi particolari da gestire e per ciascuno magari c'è il messaggino fatto giusto, devi evidenziare poi magari la parte giusta dell'interfaccia con un colore, mettermi dei commenti, degli asterischi e quello porta via codice, ma non c'è nulla di particolarmente difficile, è solo un lavoro di bassa manovalanza sull'interfaccia. Se poi tutte le cose sono da posto allora finalmente vado a compiere l'operazione e poi vado a estrarre, e questo è semplicemente questa chiamata, in cui sono sicuro che a questo punto, a questo oggetto vuoto che sto costruendo ha tutti i sacri crismi che deve avere, quindi gli passo una stringa che non è vuota, gli passo dei punti che sono validi e quindi finalmente posso passare al modello l'oggetto vuoto da aggiungere. Di solito l'unica operazione diciamo così valida o importante è annegata in mezzo a una serie di altre istruzioni, più di basso livello. E poi la visualizzazione, come dicevamo, non ci piace tanto visualizzarla in questo modo, con queste sintassi, come minimo li vorremmo uno per riga, ma come minimo vorremmo avere la lista di oggetti vuoto e ce la stampiamo come ci piace. Allora dobbiamo aggiungere al nostro modello libretto un metodo che adesso non aveva. Una serie di metodi, noi nel nostro main di prova ci eravamo accontentati semplicemente di fare una print line del contenuto, ma adesso che questo contenuto non lo smattiamo semplicemente in un programma di prova, ma lo mettiamo in interfaccia grafica, dobbiamo curarlo un po' meglio. Allora facciamo restituire una lista di voto, getVoti, al nostro controller, al nostro modello, return di spunto, voti. In questo caso è semplice perché questo modello alla fine contiene o gestisce semplicemente una lista di oggetti. E quindi restituiamo questa lista, il riferimento a questa lista, al controller, il controller ci prometterà che non la va a pacioccare questa lista, la userà solamente per visualizzarla. Il contenuto di questa lista è un dato privato del modello, però che per rendere lo stampabile in qualche modo te lo devo dare. Fidiamoci del nostro controller, se non mi fidassi del nostro controller ne farei una copia qua di questa lista e ti passerai una copia. Ma è inutile fare il lavoro inutile, fare il lavoro eccessivo quando non ce n'è bisogno. Sappiamo che qui non c'è modo in Java di dire ti restituisco questa lista ma non la puoi modificare. Non si può. La restituisco e so che tu non la modifichi, mi raccomando. Allora a questo punto se ho questo metodo getVoti nel modello io posso tornare nel mio controller e avere finalmente una lista di voti, voto, voti, chiedendolo al modello, non chiedo più un toString ma chiedo un getVoti e allora avendo questa lista di oggetti, importiamo java.util, posso costruire nella mia area di testo qualche cosa un pochino più ordinata. Quindi ad esempio la mia txt voti, la pulisco, ci aggiungo una prima riga in cui dico appended text, sì, in cui dico ad esempio hai superato totesami e questo tot sarà che cosa? sarà voti.length, size, scusate, in java si chiama size, esami, parra n, txt voti, poi a questo punto in un ciclo stamperò tutti i vari voti, quindi for voto v due punti voti, da ciascuno farò un txt voti append text, ma ad esempio potrebbe essere un v.toString più a capo, volendo, se ci accontentiamo di come il voto v si rende come string, se non ci piace andremo a costruircela noi. quindi in questo momento, con questo codice se io inserisco un nome, pincopallino, dell'esame, prendo un voto, faccio aggiungi e lui mi dice hai superato un esame, vabbè un esame, pincopallino 24, un altro, l'altro invece ho preso 27, hai superato due esami e mi fa l'elenco così, non è il massimo ma è un po' meglio di prima. Cosa ho cambiato dal punto di vista dell'organizzazione del codice? beh, ho rimesso in mano al controller la creazione della forma in cui visualizzare i dati. In questo caso, poiché i dati sono in un'unica area di testo, sarà il controller che deve un pezzo per volta costruirsi questa stringa. Faccio degli append text che sono gli equivalenti delle print, ricordiamoci di mettere il barra n, non lo aggiungi in automatico per andare a capo, oppure volendo uno si costruisce prima una stringa e poi fa un set text dell'unica stringa che contiene a sua volta all'interno gli a capo. Se decideremo, impareremo a visualizzare i voti sotto forma di tabella e non sotto forma di area di testo, basterà semplicemente modificare queste linee qua. Non quella get voti perché quella rimane, quello sotto, impareremo come fare a riempire le caselle di no table, si chiama table, non si chiama grid, il grid pen che abbiamo usato è semplicemente un contenitore, invece c'è un oggetto tabella in javascript fatto per contenere dei valori, righe e colonna. Ok? Se volessimo, visto che ne abbiamo parlato prima, no? Quando nel caso in cui... Ah, scusate, non ho fatto vedere cosa succede se dimentichiamo qualcosa. Se dimentico il nome del corso e premo aggiungi, mi cancella tutto e mi scrive occorre inserire il nome e il voto. Inserisco il nome, adesso me lo fa aggiungere. Però una cosa un po' brutta è il fatto che quando ho inserito qualche cosa mi è rimasto qua sotto il valore. E quindi c'è il rischio che se premo due volte per sbaglio mi scappa il dito e rinserisca di nuovo, oppure cambio il nome dell'esame, mi dimentico di cambiare il voto e inserisco l'esame con il voto sbagliato. Allora, una cosa che sarebbe utile fare è che quando aggiungo con successo un esame, senza errori, allora poi pulisco queste due caselle, in modo da dare la possibilità di inserirne uno nuovo sul pulito da zero. Se invece ho commesso un errore, no, queste non le devo modificare in modo che l'utente possa correggere l'errore. Allora, di nuovo cosa faccio? Lo faccio qua nel punto 3. Aggiorno il risultato, ti stampo il risultato e poi resetto, diciamo, gli elementi di interfaccia. Quindi avrò il txt nome, clear, e anche la combo punti, anche lui se non sbaglio ha una proprietà clear, ha un metodo qui, non ce l'ha, aspetta, eh, allora devo fare un set value, null, dovrebbe funzionare, perché la proprietà value, ci ricordiamo, è il valore attualmente selezionato. Quindi se lo metto a 30, lui mi dovrebbe selezionare la casellina 30, se lo metto null dovrebbe deselezionare tutto. Dico dovrebbe perché, adesso lo verifichiamo, non so, sicuro a mille per mille. Nome corso abcd, aggiungi, non me lo fa aggiungere, inserisco, però non me lo cancella. Inserisco un voto, che fa aggiungi, effettivamente mi ha ripulito sia la casella in cui c'era il nome, sia la casella in cui c'era il voto. Piccole cose noiose, però sono quei piccoli dettagli che poi chi utilizza l'interfaccia si aspetta che ci sia. Viceversa, dicevamo, se invece volessimo evidenziare in qualche modo gli errori, come possiamo fare? E dovremmo andare a tornare alla nostra progettazione grafica e dire, innanzitutto, se questa, adesso è un'area di testo, quella sopra, ma noi ce l'immaginiamo sempre come se fosse una tabella. Allora, se è una tabella con dei dati, non è lo spazio in cui posso mettere il messaggio d'errore. Il messaggio d'errore va da qualche altra parte. Ma anche perché non è che deve scomparire, come succede adesso, scomparire l'elenco dei voti perché ho sbagliato a inserire quello in più. Ci vuole uno spazio dedicato. Può essere, quindi devo aggiungere una casella di testo, una label, dedicata a ricevere i messaggi. In questo caso potrebbe essere magari una label a fianco del bottone aggiungi, oppure in generale una riga di stato in fondo, che normalmente è vuota, e quando c'è bisogno di scrivere qualcosa ci scrivo lì dentro. In molte applicazioni, l'ultima riga in basso è una riga di stato che ti dice qual è lo stato dell'operazione corrente. Allora, la possiamo fare, ad esempio aggiungendo un'altra label, la mettiamo nel bottom del nostro contenitore, la chiamiamo txt status, il valore iniziale è vuoto, quindi cancelliamo ciò che c'è scritto dentro, e la predisponiamo magari per saltare fuori in rosso, dove non c'è modo di dire il nome e il colore, perché conterrà un messaggio d'errore. Adesso qua non si vede, però se stampassimo un errore a un certo punto comparirà qua sotto. è molto brutto da vedere, c'è di meglio, magari lo mettiamo a sinistra, allora qui l'allineamento c'è sempre dell'intrascemi, perché è l'allineamento del border pane e non del... vabbè, ci penso un altro momento allineamento. E quindi questa stringa, adesso che ho scritto errore, solamente per renderla visibile, la svuotiamo, sarà vuota e ci scriveremo qualcosa dentro solamente nel caso dell'errore, così il messaggio d'errore non lo scriviamo dentro il txtvoti, ma lo scriviamo dentro il txtstatus. Così come l'altra cosa che si potrebbe fare è, ad esempio, mettere un bordino rosso intorno alla casella che... ad esempio il nome del corso, se questo è mancante. E questo si può fare modificando queste proprietà di stile, ad esempio border color red, poi vedete che è comparso, se ho aggiunto questa proprietà border color red, me l'ha fatto vedere, è comparso un bordino rosso. Adesso qui, in questo corso non ci perdiamo tanto in questi dettagli, queste proprietà qui, questi stili, sono descritti con un linguaggio che si chiama css, è un linguaggio che vedrete quando vedrete la parte di grafica delle applicazioni web, in html, la parte css è il linguaggio con cui si descrive lo stile delle pagine web, i colori, i font, eccetera, delle pagine web. La stessa cosa, le stesse proprietà valgono qua, nel mondo java effects, quindi una volta che lo imparate dall'altra parte, sapete già quali proprietà potete mettere qua. Ovviamente qua l'ho scritto una proprietà dentro lo simbuilder, ma normalmente questa stessa cosa la farei da java, da codice java, aggiungo questa proprietà o la tolgo per mettere o togliere il bordino rosso. o altre proprietà simile. Poi quello che si fa più spesso è quello di definire delle classi, cioè dei nomi simbolesi per gruppi di proprietà, ma non voglio entrare in CSS oggi. Per dire, quello che noi normalmente, provate a immaginarvi quando usate un qualunque programma, ci sono già tanti piccoli comportamenti che diamo per scontati, soprattutto nell'emissione dei dati, eccetera. Quando passo da un campo all'alto col tasto il tab, allora come faccio a fare in modo che passi da un tasto all'alto premendo tab? Anche qua ci sarà un evento che deve essere intercettato. Sono tante piccole cose che non sono complicate, ma richiedono tanto lavoro e dettaglio a livello di scena e a livello di controller. Non impattano nulla invece il modello, per come lo chiamiamo oggi. Quindi noi ci concentreremo nel resto del corso più sulla parte di modello, no? Quindi non andiamo a impazzire in questi dettagli, che però purtroppo in un'applicazione fatta bene servono tutti. Togliamo questo bordo rosso che è brutto da vedere e lui torna grigio normale. Però il testo rosso ce l'abbiamo. Adesso come faccio? Ho aggiunto questa label sotto, ok? La txt status. Come faccio adesso a far sì che il controller la veda, questa cosa qui? Sicuramente devo salvare il file fxml, l'ho già fatto. E poi conviene andare a visualizzare il controller e vedere che lui ha aggiunto una nuova variabile txt status qua dentro. Quindi visto che il controller ci ho già lavorato, non lo vado a rimpiazzare totalmente con questo scheletro vuoto, ma vado a prendere questa semplice variabile e la aggiungo. Qua. Devo importare. E qui, attenzione, l'able non l'avevo mai usato qua dentro e quindi non c'è l'import. L'import ci sarebbe qua all'inizio, no? Se voglio lo posso andare a copiare da qui. Dell'oggetto label, perché prima non l'avevo ancora usato. Quello che dovete fare attenzione è non importare alla cieca, perché il primo che mi mette qua... Vedete che ci sono quattro librerie diverse che definiscono una classe che si chiama label. E la prima non è la nostra. È la vt. Quindi dobbiamo prendere in questo... La prima, dipende, ognuno magari viene fuori un ordine diverso. Perché Cripp cerca di indovinare. Invece dobbiamo scegliere quella giusta. Quindi a questo punto questo messaggio di errore lo posso mettere in txtstatus. Così non vado a sporcare il nome dei libretti, dei voti. E analogamente questo stato lo dovrò cancellare quando finalmente sarò riuscito a inserire correttamente il nome. Quindi qua sotto, in fondo, in fondo, quando sono riuscito txtstatus clear. Non me lo fa fare. E allora dovrò semplicemente dire setText. Questa non è una text field, è una label, è a qualche metodo in meno perché è più stupido. Ma allora basta fare un setText e quindi di vuoto e il metodo setText c'era. Quindi riproviamoci. A questo punto se non inserisco nulla clicco su aggiungi comparirà qua sotto questo messaggio occorre inserire nome e vuoto. Va bene. Lo inserisco. adesso si voto a qualunque clicco su aggiungi chiaramente si aggiorna il libretto e sparisce il messaggio d'errore sotto. purtroppo il controller dell'interfaccia dobbiamo ricordarci poi di riportare il riferimento all'oggetto nel controller in modo che il controller lo possa usare. Se invece come abbiamo visto prima aggiungiamo un metodo nel modello beh beh poi semplicemente un metodo aggiunto ad un oggetto il controller lo può chiamare normalmente non c'è bisogno di nulla di speciale da fare e quando modifichiamo qualcosa in interfaccia che dobbiamo modificarlo nell'fxml e nel controller in modo coerente. Ok? A questo punto noi potremmo andare avanti qui ho un po' di programmi aperti contemporaneamente li chiudiamo potremmo anche andare avanti a vedere gli altri punti dell'esercizio sul libretto di voti tanto oramai abbiamo lo possiamo lanciare direttamente dall'interfaccia grafica una cosa che non è per nulla facile da fare non è banale sarebbe dire vabbè qui abbiamo delle funzionalità le abbiamo implementate fino al 5 adesso implementeremo le altre va bene quale potrebbe essere un'interfaccia grafica da cui richiamare tutte queste funzionalità se ci pensate non è banale come farlo quindi noi non non le aggiungeremo tutte perché sennò rischierebbe di venire fuori un'interfaccia così ma con 500 bottoni intorno aggiungi cancella fai questo fai quell'altro quindi progettare un'interfaccia in modo che sia intuitiva e chiara e non abbia 12.000 bottoni diversi non è un lavoro banale non è scontato ecco la progettazione la progettazione l'interfaccia andrebbe fatta pensando all'utente che la deve usare non pensando alle funzioni che devo richiamare è un mestiere di per sé di chi fa interazione uomo macchina essenzialmente di chi fa un po' di design noi non siamo né designer né interaction designer però quando facciamo queste cose il consiglio che vi do è sempre cerchiamo di capire quali funzionalità vogliamo fornire all'utente e facciamoci un bozzetto proprio su carta così poi magari farlo vedere a un tuo amico o una tua amica dicendo senti ma tu da questa qua cosa ci capisci capiresti come devi usarlo cosa devi fare e poi una volta che è chiaro allora si può passare all'implementazione ma di questo purtroppo in questo corso non abbiamo tempo di occuparci ok proviamo ad andare avanti allora nell'implementazione dei vari metodi ad esempio il metodo add dice il punto 6 ci dice modifichiamo il metodo add in modo da evitare di inserire valutazioni duplicate o in conflitto allora questa è una modifica semplicissima a livello di modello perché noi abbiamo già due metodi che sono isduplicato o is conflitto lo abbiamo fatti la volta scorsa quello che ci sta dicendo l'esercizio è il punto 6 è questo metodo add prima di inserire davvero l'esame verifica che non ci sia che non sia un duplicato e non sia un conflitto giustamente quindi qua semplicemente basta che io aggiunga if not isduplicato divi and not is conflitto divi allora lo aggiungi non mi metto a rifare la ricerca perché i metodi che lo fanno ce li ho già scritti l'altra volta però a questo punto cambia anche un pochino la semantica del metodo add prima il metodo add abbiamo detto la settimana scorsa delega alla lista cioè se una lista chiamo add lei aggiunge sempre non è che si dice no ma guarda questo qua l'ha già aggiunto tre volte basta no se l'ha aggiunto tre volte l'aggiungo una quarta lo stesso elemento lo stesso identico valore la lista non fa una piega il libretto di voti invece si rifiuta di inserire alcune cose allora dal punto di vista di chi chiama il metodo add del chiamante non è più la stessa cosa perché io non sto aggiungendo un elemento sto provando ad aggiungere un elemento e posso averlo aggiunto oppure no pensate all'interfaccia grafica a volte schiaccio aggiungi e l'erame non viene aggiunto perché è un duplicato perché è un conflitto allora vuol dire che questo modello deve dire al suo chiamante se l'operazione è andata a buon fine oppure no quindi deve cambiare il valore di ritorno cosa faccio se l'operazione non va a buon fine ho due opzioni ritorno booleano vero o falso oppure sparo un'eccezione nel caso in cui il voto non fosse aggiungibile se fosse usare questa parola è più semplice probabilmente restituire un booleano che se tutto va bene è vero altrimenti sarà falso quindi chi chiama questo metodo può fregarsene del valore di ritorno e quindi dice boh provo ad aggiungerlo se va bene bene se no chi si frega non me ne accorgo neanche oppure andare a testare il valore di ritorno e a seconda del valore di ritorno comportarsi in modo diverso e nel nostro controller è questo che dovremmo fare perché noi nel controller davamo per scontato che se chiamavo il metodo add il libretto non dava errori doveva essere ristampato perché c'era un valore in più e dovevamo cancellare il messaggio d'errore perché era un'operazione che nella nostra mente fino ad un attimo fa andava sempre a buon fine adesso non più quindi andiamo a prendere il nostro controller e dire si si faccio add ma mi chiedo se l'operazione è andata a buon fine chiamo ok magari questa variabile per dire l'add ha avuto successo ho due casi a questo punto o si o no se ha avuto successo mi comporto come prima e quindi faccio le cose di prima se è ok faccio tutta sta roba qua se non è ok s allora non sono riuscito a inserirlo e quindi dovrò dire nel mio status errore esame già esistente già presente barra n no niente barra n è solo una label e di tutte le cose che facevo prima cioè rinfrescare l'elenco dei voti non lo devo più fare perché non essendo non avendo aggiunto uno nuovo non c'è nulla da modificare i nomi i punti non li cambierei perché non c'è niente di più brutto di dire hai sbagliato a immettere una cosa e poi non vedi più che cosa hai immesso me l'hai cancellata e quindi dici ma allora cosa ho sbagliato fammi vedere cosa ho sbagliato e e quindi l'unica cosa che vado a cambiare è lo status quindi se è vero che funziona lo scopriamo subito se io provo a inserire un esame con un certo voto se provassi di nuovo a inserire un esame con lo stesso voto con un voto diverso mi segnala questo errore voto diverso stesso voto comunque l'errore è lo stesso allora se io però scrivo un altro esame me lo dovrebbe aggiungere e cancellare l'indicazione di errore quindi questa parte di codice è esattamente quella di prima ma la eseguo solamente se la model.add mi ha dato come risultato true cioè ha funzionato è come sempre nel controller il rapporto tra righe di codice utili cioè che fanno del lavoro vero righe di codice che solamente per gestire l'interfaccia utente sta degenerando per una riga di codice utile ne ho utile ne ho 30 in totale di questo metodo contanto le righe vuote vabbè ok 7 punto 7 creare un libretto migliorato in cui ciascun voto maggiore o uguale di 18 viene incrementato di un punto e ciascun voto maggiore o uguale di 24 viene incrementato di due punti senza superare il 30 e poi qui dice tenere separati i due libretti e stamparli entrambi allora il fatto che mi dica tenere separati i due libretti mi fa venire in mente che potrei creare un nuovo oggetto di tipo libretto e restituire un nuovo oggetto di tipo libretto cioè questo metodo qua è un metodo della classe libretto che restituisce come valore di ritorno un nuovo libretto che avrà dei voti modificati se io li voglio tenere separati non posso modificare il contenuto della mia lista voti e non posso neanche secondo me complicare troppo perché l'altra idea che potrebbe venire in mente è dire ma se io allora sono nel libretto se devo ottenere sia i voti vecchi che i voti nuovi allora posso fare qua dentro due liste voti vecchi e voti nuovi però poi mi incasino subito perché allora quando dico get voti dovrà avere get voti nuovi e voti vecchi controllo di conflitto e conflitto sui nuovi conflitto sui vecchi cioè non ha senso duplicare tutti i metodi perché devo avere due elenchi di voti diversi se un elenco di voti indipendente da quello precedente è un altro libretto quindi a volte questo è se vogliamo un pattern di programmazione più ampio rispetto all'esempio che stiamo facendo noi possiamo pensare a due tipi di strutture dati strutture dati modificabili dall'utente da chi chiama i metodi quindi ci sono dei metodi che vanno a modificare l'oggetto stesso il metodo add va a modificare l'oggetto stesso oppure ci sono dei metodi che creano una copia modificata in questo caso il libretto sarebbe immutabile si chiamano metodi funzionali perché quando tu apri una funzione a qualche cosa non cambia l'argomento semplicemente calcoli un nuovo valore noi non faremo molta programmazione funzionale qua però lo accenniamo solo come pretesto qua cioè quando voglio modificare un oggetto io ho sempre due scelte sempre no generalmente ho due scelte modifico l'oggetto stesso oppure creo un altro oggetto che sia uguale a quello di partenza tranne le modifiche che volevo farci in questo caso chiaramente non ho sporcato non ho modificato l'oggetto di partenza visto che qua mi dice mantieni entrambi mi sta spingendo verso la seconda soluzione dammi un altro libretto più bello di quello che ho ok allora nel modello creiamo un metodo come si chiamava questo non lo dice migliorato chiamiamolo miglioravoti o libretto migliorato quindi abbiamo un metodo public che restituisce che cosa un nuovo libretto con i voti migliorati voti migliorati cosa fa questo metodo beh crea un nuovo libretto uguale new e per ciascun elemento del libretto attuale inserisce il voto nel nuovo libretto quindi for voto v poi lo deve modificare in dis.voti farà un bel nuovo .add diciamo di v per il momento e poi restituisce il nuovo questo non è non è completo ovviamente non dobbiamo aggiungere tutti i voti identici a quelli precedenti se no stiamo facendo semplicemente una copia a questo punto dobbiamo è chiara la logica che io creo un nuovo questo diciamo è un esempio di una factory di cui parlavamo prima un metodo che mi serve per creare un oggetto lo crea con un po' più intelligenza che non se dovessi crearlo semplicemente facendo new e poi dopo devo metterci dentro i dati un metodo che ci mette già dentro dei dati con una certa logica strana ma di miglioramento dei voti e quindi quando voglio creare un libretto migliorato prendo un libretto e gli chiedo senti mi crei un altro libretto che è quello che faccio vedere a casa invece quello vero me lo tengo io ovviamente in questo nuovo libretto potrò aggiungere tali e quali voti esistenti oppure dei voti diversi a seconda in questo caso dice ciascun voto maggiore o uguale di 18 viene incrementato di un punto ciascun voto maggiore o uguale di 24 viene incrementato di due punti quindi teniamoci i punti uguale uguale punto get punti e poi se punti fosse maggiore o maggiore o uguale di 24 maggiore o uguale maggiore o uguale di 24 allora lo incremento di due se invece punti maggiore di 18 sono tutti se no non sarebbero nel libretto e quindi lo incremento solamente di uno poi devo controllare di non essere andato oltre il 30 quindi se per caso i punti maggiore di 30 lo rimetto a 30 e a questo punto posso creare non vado più ad aggiungere V ma vado ad aggiungere un nuovo voto che contiene lo stesso nome del voto precedente ma i punti modificati quindi ho la mia bella lista di voti la spacchetto nei singoli voti modifico ciascuno di questi creando un altro modificato e le rimpacchetto di nuovo in un nuovo libretto e quindi avrò visto dal punto di vista del chiamante avrò model punto get voti mi dai voti voti vecchi e nuovo punto get voti mi darà i voti modificati e se voglio li posso stampare entrambi utilizzare entrambi fin tanto che mi serve il nuovo per farlo dovremo aggiungere almeno un altro bottone nella nostra interfaccia che mi fa vedere voti migliorati lo possiamo aggiungere un'altra volta ok io non ho fatto non ho fatto v.set punti di punti e poi nuovo punto add allora io ho preso il singolo voto del libretto attuale ok poi ho fatto questo calcolino stupido per dire qual è il voto nuovo ma questo non mi preoccupa questo calcolo poi avrei potuto dire va bene questo oggetto v imposto i nuovi punti modificati e così posso aggiungere al nuovo libretto direttamente l'oggetto v senza dovermi fare new voto get nome punti eccetera allora è meglio così come ho fatto o sarebbe stato meglio così esatto così non va bene lei mi sta dicendo che se io facessi così come evidenziato adesso avrei modificato direttamente anche i voti del libretto vecchio perché questa variabile v sta puntando dentro la lista dei voti del libretto vecchio non è una copia dell'oggetto voto l'oggetto sarebbe lo stesso e quindi avrei due liste diverse due libretti diversi ciascuno che ha una lista di voti ma poi gli oggetti dentro la lista sono gli stessi lo stesso oggetto voto è il primo elemento della prima lista e il primo elemento della seconda lista qua è la parola chiave new che ci deve fare pensare cioè io voglio aggiungere alla seconda lista lo stesso oggetto che giace nella prima lista così questo oggetto lo posso raggiungere da due punti diversi e se lo modifico da una parte lo vedrò modificato anche dall'altra e quindi ho due alias due modi diversi di accedere al stesso oggetto oppure voglio un oggetto che abbia una vita indipendente allora deve essere un oggetto nuovo deve essere un oggetto diverso tantissimi problemi nascono se ci sbagliamo nel ragionare tra le due opzioni voglio fare una copia e quindi avere un oggetto distinto da quello precedente ma che abbia gli stessi valori oppure voglio farne ottenere un nuovo riferimento si dice in gergo un alias a un oggetto esistente e quindi più punti puntano allo stesso oggetto in questo caso volevamo proprio fare una copia quindi questo sarebbe molto sbagliato ok allora non abbiamo più molti minuti quindi non usciamo a farli entrambi ma io farei il nove poi l'otto magari se vogliamo lo diamo è semplicemente un sort l'otto lo riprendiamo perché ha a che vedere tanto per rinfrescarci come si fanno i comparator comparavol eccetera come si creano le liste ordinate ma vediamo invece oggi il nove c'è tempo e comunque espone un problema allora questo qui dice cancellare dal libretto tutti i voti inferiori ai 24 vabbè ci farebbe piacere per proprio cancellarli poi bisogna ridare l'esame comunque public void cancella voti minori non di 24 ma passiamo un parametro dei punti no? in modo che vada bene per 24 vada bene per 21 vada bene per 28 quello che volete allora noi sappiamo cancellare un elemento da una lista perché poi alla fine questo dobbiamo fare prendere tutti i voti uno per volta e cancellarli dalla lista dovremmo fare this punto voti punto c'è un remove nell'oggetto lista abbiamo diversi metodi remove i due che saltano fuori per primi sono remove con parametro index e remove con un oggetto come parametro qual è la differenza tra i due? chiaramente nella prima devo passargli come parametro l'indice dell'elemento da cancellare 0, 1, 2, 3, 4 nel secondo l'oggetto che so che esiste nella lista e voglio eliminare nel primo caso lui va a prendere l'elemento della lista sa che è il quinto lo cancella nel secondo caso va a prendere a cercare uno per uno tutti gli elementi della lista e va a fare un test di uguaglianza il primo elemento della lista punto equals di o no allora lo tengo sopravvivo il secondo elemento della lista è equals all'oggetto che ti ho passato si no eccetera fino a quando non trova un oggetto che sia equals a quello dato in quel caso lo cancella ok? quindi io posso scegliere se rimuovere l'elemento alla posizione specificata nella lista e tutti gli elementi successivi vengono spostati indietro nella posizione oppure il remove rimuove dalla lista la prima occorrenza dell'elemento specificato la prima se ce ne fosse più di uno non lo cancella la seconda in questo caso non abbiamo voti duplicati ma in generale questa è un'operazione su list ok? quindi cancella solo la prima occorrenza se è presente e se non è presente leggiamo sempre la documentazione se la lista non contiene elemento it is unchanged cioè la lista rimane non modificata non ci fa nulla non si arrabbia non fa nulla però me lo dice perché ritorna il valor è true se la lista conteneva content al passato perché l'ho mai cancellato l'elemento specificato evidentemente se invece non conteneva l'elemento e quindi non l'ha modificato ritornerà falso così come abbiamo fatto con il nostro metodo prima di aggiunta controllata allora ovviamente il primo metodo quello di remove con indice sarà a me viene da dire che è più veloce perché ti dico già qual è l'elemento da cancellare il secondo metodo invece deve cercare nella lista dove è l'elemento e poi una volta che l'ha trovato cancellarlo quindi se io ragionassi per posizione probabilmente avrei il programma impercettibilmente più veloce impercettibilmente perché non abbiamo liste di centomila esami però io provo a scrivere il codice e poi ci ragioniamo perché il tempo è finito voto v this.voti if v.get.punti è minore di punti this.voti .remove di v questo a primo acchito scriverei questo codice vado a vedere tutti i voti se ce n'è uno v che ha dei punti scusate minore non maggiore minore della soglia specificata lo cancelliamo usando remove a cui passo v come oggetto tanto il metodo v il metodo equas l'abbiamo messo la volta scorsa allora provateci un po' vedete se funziona se vi da errore andiamo a modificare il main di prova il test libretto e poi la volta prossima ci ragioniamo insieme per capire perché non funziona e come invece risolverlo vi devo lasciare una settimana in suspense rispetto a questa risposta ricordiamoci settimana prossima aula 1 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti